Ciao ragazzi, bentornati, bentornati in un nuovo video, bentornati sempre qui con il vostro Marco Verdoliva su MW Hardware in un nuovo appuntamento dedicato alle vostre domande, infatti siamo nell'MVFAC e vi basta scrivere MWFAC nei commenti, lasciarmi una domanda e noi vediamo un attimino di rispondervi quanto prima possibile. Allora vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale perché sennò vi vengo a prendere fino a casa e vi annullo gli ordini delle vostre RTX 3000 e di andare giù in descrizione perché troverete i link per seguirmi sugli altri social tra cui Telegram con il gruppo Telegram e il canale offerte MW Hardware dove postiamo un sacco di cose e ci sta pure il secondo canale offerte, quello dedicato al mondo tech dove postiamo sciartapelle e cose varie quindi come fate, come fate a non stare nei nostri gruppi? Allora iniziamo subito, qui c'è il mio bel fogliettino con delle domande più interessanti e la prima domanda ovviamente le domande sulle GPU non ve lo dico nemmeno mi state continuando a inondare la bacheca su Telegram, su Instagram, ovunque dove voi mi chiedete se ve ne dette GPU ragazzi quando arrivano la verità è che boh non si sa, le cose peggiorano l'abbiamo detto 100.000 volte, le cose ancora non si sono capite, continueranno a peggiorare e io semplicemente ho deciso di evitare di portare questo inutile e persistente discorso di merda su questo canale, quindi ragazzi vi prego, non lo so, non ne ho idea e non mi chiedete diciamo più di queste schede che non ce la faccio più, veramente Allora Alfa81 mi chiede, MVFAC, ciao Alfa, hai mai pensato di aprire un negozio di informatica? Questa sarebbe una bellissima cosa e sarebbe il mio sogno, più che un negozio di informatica in generale, è aprire un centro vero e proprio, cioè una sede fisica di MV Hardware dove fare anche vendita al dettaglio e assistenza, quindi sarebbe veramente una bella cosa C'è un treno che sta passando, sarebbe un sogno, ma diciamo il problema è uno solo che io ho poco tempo, allora non so se voi lo sapete, ve lo ripeto sempre, io in realtà sono un dipendente, io lavoro, faccio il tecnico radiologo, ho uno stipendio fisso e quindi capite bene che io sto impegnato quasi tutta la giornata, inoltre lavoro anche con partita IVA in proprio, faccio consulenze e andare a aprire un negozio di informatica significa per me dover abbandonare completamente il mio lavoro e dedicarmi solo a quello e capite che abbandonare uno stipendio e un posto fisso in questo momento storico specialmente non è una scelta diciamo semplice da prendere, inoltre io ho una famiglia, ho una moglie, un figlio quindi voglio dire, sono scelte un po' difficili, sicuramente in un prossimo futuro non vi nego che sto già pensando di aprire sicuramente un sito con uno shop o qualcosa del genere se l'utenza comunque, se voi che mi seguite e che state aumentando mi date un supporto ovviamente seconda domanda, quale CPU al Hav Allost? Quale CPU mi consigli con una 3080? sempre se la trovi, siamo sempre là allora una 3080 ovviamente è una scheda top di gamma, ci vuole un processore decente in questo momento io vi consiglio di aspettare l'uscita dei nuovi Intel 11.000 perché avranno comunque delle prestazioni superiori ai precedenti e dobbiamo però capire il prezzo in ogni caso con una scheda del genere ci vuole un processore buono quindi parliamo di 10.700K, 10.900K se AMD è riuscito a trovare un 5.000 anche un 5.800X quindi un bel processore potente con un numero di core sufficienti e sicuramente le frequenze belle alte anche se non è fondamentale in questo caso avere delle frequenze altissime soprattutto se voi puntate a risoluzioni come il 4K o il 1440p a dettagli elevati ma in ogni caso una CPU del genere per forze di cose ha necessità di almeno, dico almeno, un 10.700, un 10.600K bello tirato o un 5.600 e un 5.800X da Enzo Terpin ciao Marco, ciao Enzo che mi chiede se è possibile che i brand come Nvidia e AMD possano sviluppare meglio tecnologia multischietta, slide e crossfire in modo da raggiungere il doppio delle prestazioni ovviamente con due schede o se è anche un problema di implementazione della scheda madre allora i sistemi multi GPU in gaming non sono mai largamente non sono mai stati largamente utilizzati da molti perché fondamentalmente uno slide o un crossfire non è diciamo un sistema che dal punto di vista delle risorse conviene rispetto alla spesa e alle prestazioni è difficilissimo arrivare ad ottenere il doppio delle performance con due schede perché è vero che avendo due schede secondo una serie di meccanismi diciamo c'è una maggiore capacità di rendering perché con due schede ci sono per esempio il rendering a pixel pari e dispari quindi una scheda va a renderizzare i pari, una scheda il dispari c'è la rendering ad aria e quindi magari metà schermo viene renderizzata una scheda, metà schermo viene renderizzata da un'altra scheda in generale non si ha mai il doppio delle performance perché è vero aumentando da una parte la capacità di calcolo ma aumentano tutta una serie di problemi come ad esempio la latenza nei giochi si possono avere un po' di disturbi come input lag e cose varie quindi non è prettamente un sistema che io consiglio per il gaming in ambito produttività lì dove magari la scalabilità può essere sfruttata in maniera differente con dei software che lo supportano può avere un maggior senso io penso che i sistemi a singola gpu vanno meglio e si può andare a spendere meno soldi prendendo una top di gamma che prendendone due, ok? magari di media fascia e cose varie in generale comunque sono dei sistemi che sono stati migliorati si è passato dallo Sly che non esiste più al Nvidia Link che è comunque un sistema migliorato soprattutto quando si va a giocare o comunque a sfruttare delle risoluzioni molto elevate come il 4K ma a mio avviso restano comunque dei sistemi molto dispendiosi e allo stesso tempo poco diciamo remunerativi perché più di un 20-30% è difficile guadagnare con un sistema multischeda e soprattutto al netto poi di una serie di problematiche che non sempre sono diciamo divertenti ecco l'ultima domanda ce la fa Marco Fogu che ci chiede se diciamo le integrate alle gpu sono delle schede tanto pessimo se possono essere diciamo delle buone soluzioni il problema delle integrate è che comunque non raggiungono delle prestazioni pari a una scheda video dedicata allora noi abbiamo visto in questi anni AMD fare degli ottimi processori che hanno delle schede video integrate parlo all'inizio del 3200G, del 2200G, del 3400 probabilmente vedremo in questi giorni un processore il 4650G, la serie Pro di AMD che comunque hanno delle buone schede integrate che ti permettono di fare tanto ti permettono anche su qualche gioco di osare cioè di giocare a dettagli medi, medio, bassi con un framerate decente ma sicuramente avere una scheda video dedicata ti permette di fare un sistema diciamo prettamente per il gaming a 360 gradi cioè le prestazioni non sono pessime sono accettabili ma non sono delle prestazioni paragonabili a un sistema gaming un esempio per farvi capire sono le integrate alle console le console anche di next gen sono dei prodotti basati su delle CPU integrate ma lì c'è tutto un discorso di ottimizzazione anche dal lato diciamo di programmazione proprio dei giochi per cui è un sistema completamente sviluppato intorno alle APU e in quel caso funziona molto bene pensare di poter integrare un sistema del genere in un processore in un PC è qualcosa diciamo di un attimo più complicato ma penso che in futuro vedremo delle integrate sempre più potenti soprattutto dopo questa situazione delle schede video io penso che qualcosa si muoverà e quindi sarà facile vedere delle implementazioni di schede grafiche integrate molto più potenti anche da parte di Intel e quindi staremo a vedere per questo mvfac è tutto ragazzi io vi ringrazio la primavera si sta iniziando a far sentire e noi ci vediamo prossimamente sempre su questo canale sempre con il vostro Marco Verdoliva iscrivetevi andatevi a vedere tutto sotto nei commenti e noi ci vediamo il prossimo video ciao 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 ciao